Ehm, però ovviamente se un bambino viene esposto mediaticamente da una coppia che inevitabilmente è già esposta mediaticamente, quindi per la proprietà transitiva lui stesso sarà esposto mediaticamente, ci si indigna, però quando lasci libera arbitra di un bambino e lo battezzi ci si indigna. Ehm, guardate due persone che dal nulla si sono costruite tutto senza appartenere ad un sistema clientelare, senza cognomi altisonanti, e auguratevi che i vostri figli possano avere le stesse opportunità perché il mio nome Federico Lucia e comunque sia vengo da Rozzano amici miei. Wow. We got London on the train No, 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 no